salve a tutti voi eccovi giunti nel lazio benvenuti quest'oggi tra le tre di ocg del lazio cannellino di frascati frascati superiore cesanese del piglio o piglio ho deciso di portare alla vostra attenzione proprio quest'ultimo essendo l'unico rosso dunque cesanese del piglio o piglio di ocg a prescindere dall esame organolettico che faremo tra pochissimo voglio dirvi immediatamente cosa c'è senz'altro in questo bicchiere in questo bicchiere amici c'è una millenaria storia di uomini con tanti successi ma anche con tante delusioni con grande caparbietà ma soprattutto un paradigma l'amore per la propria terra la terra è quella di cioceria la reale è quello delle cinque città due delle quali sono impegnate come territorio in maniera totalizzante e cioè sono la città di piglio e la città di anagni parzialmente i territori della città di palliano di acuto e di serrone un po di storia questa storia come dicevo millenaria parte dalla citazione di plinio il vecchio nella sua naturalis historia nel primo secolo dopo cristo attraversa naturalmente con tanti altri documenti che attestano la presenza di questo vitigno nelle nostre zone il medioevo l'umanesimo rinascimentale e il secolo dei lumi per arrivare a delle certezze maggiori con delle descrizioni anche sulla qualità al 1825 con la cerbi e 1877 con il rovasenda nel 1942 viene arroverato anche come vitigno di qualità negli annali dell'università federico secondo di napoli per giungere poi agli anni 50 60 in cui l'allora ministero dell'agricoltura e foreste nelle mostre campionari organizzate ritiene nei propri annali la citazione del cesanese come vino che può competere con baroli e chianti blasonati nel 1973 si aggiudica la doc e bisogna attendere il 2008 per la docg in 15.300 ettari di terreno di queste cinque città ci sono 240 ettari vitati che vengono lavorati da 28 produttori che esprimono 550 mila bottiglie di questo vino è un vino che lascia tutti entusiasti quindi quest'oggi cercherò di incuriosire tutti coloro che non lo conoscono voglio però dirvi che delle tre tipologie di vino cesanese il disciplinare prevede il base il superiore ed il riserva il base superiore riserva non stesso vitigno di partenza che al 90 per cento almeno il cesanese diafile e o cesanese comune e massimo il 10 per cento di altri vitigni a bacca nera che si possono produrre all'interno della regione lazio come titolo alcolometrico abbiamo per il base 12 gradi 13 per il superiore e 14 per il riserva dopo 20 mesi almeno di invecchiamento di cui almeno sei trascorsi in bottiglia giungiamo a ciò che abbiamo nel bicchiere quest'oggi abbiamo un superiore quindi ci aspettiamo un prodotto di grande qualità e così è il normale colore già virato da verso il granato in maniera decisa in maniera molto compatta al naso amici miei esaltante questo cesanese che peraltro è in purezza 100 per cento vitigno di affile e oltre a i sentori che scopriamo normalmente di mora di mirtillo di ribes nero immediatamente esce fuori anche una bella speziatura molto gradevole e andando a fondo con i terziari possiamo gustare addirittura un morbido muschio e un fungo molto deciso per quanto attiene all'assaggio la morbidezza di questi tannini è la prima cosa che mi viene mi giunge dal palato oltre a un naturalmente calore giusto e una morbidezza è una lavorazione veramente eccellente perché il problema di questo vitigno in particolare nella versione di affile è quella di ammorbidire questi tannini che per naturalezza il vitigno ha un po' spigolosi un po' impetuosi ed è stato lavorato veramente molto bene senz'altro possiamo arrivare a dire che questo equilibrio è giusto l'armonia altrettanto e possiamo abbinarlo con tanti tanti piatti dalla tradizione del lazio pollami carne e sughi consistenti molto ristretti naturalmente la mitica pagliata e poi forse in primis i nostri bucatini ad amatriciana speriamo di aver incuriosito coloro che non lo conoscevano come vino e di aver dato una gradita conferma a coloro che ne sono già bevitori alla prossima grazie a tutti